Amici e appassionati della giovane Italia, qui per voi Matteo Vigliotti pronto a raccontarvi tutte le emozioni di Feralpi Salò Udinese Under 17, gara che si è disputata al centro sportivo Rigamonti di Brescia. I padroni di casa hanno totalizzato 10 gol nelle ultime due uscite contro Venezia e Verona. Insomma, la Feralpi Salò di Mauro Coltrini sta bene e come tre cambi rispetto a settimana scorsa, Tonoli in difesa, Goffi a centrocampo e Breda in attacco, uno per ogni reparto. L'Udinese deve invece riscattare la sconfitta contro il Cittadella e Mirko Stefani ritrova al centro della mediana il Buradi, Cosentino in maglia numero 9, unica punta. La partita inizia subito con uno squillo per l'Udinese, Mlacar duetta con Toffolo 1-2 tra i giocatori di Mirko Stefani. Alla fine Toffolo mette dentro questo pallone dove si avventa Vinciati e sigla il sesto gol della sua stagione. Al minuto 9 l'Udinese passa in vantaggio grazie a Vinciati. Bel contropiede orchestrato dalla squadra friulana con Cosentino che recupera palla. Si affida a Vinciati che converge verso il centro, vede tutto libero. Toffolo ha lo spazio per andare alla conclusione e la fa partire. Palla che finisce però alta sopra la testa di Manenti. Ingenuità qui di Busolini, Goffi mette al centro, serve Breda che non riesce a coordinarsi. Bianchi sì, ma esattamente come Toffolo in precedenza non inquadra lo specchio della porta. Allora ancora Udinese con Mlacar cerca e trova la profondità per Cosentino che stoppa palla. Si gira dal piede forte, calcio in porta. Manenti bravo a mettere in calcio d'angolo. Dal corner arriva il raddoppio dell'Udinese. Calcio d'angolo messo in mezzo e allontanato da Tonoli. Landolfo calcia e il Buradi non riesce a coordinarsi ma arriva dalle retrovie dal V. Conclusione meravigliosa. Palo gol. Manenti immobile e 2 a 0 per l'Udinese che al 39 trova non solo il raddoppio ma anche una prodezza del suo numero 3 dal V. Prova ad accorciare le distanze la Feral Pissalò. Cross dalla sinistra. È bravo Breda ad arrivarci di petto. Armanini addomestica il pallone. Non riesce ad andare alla conclusione. Ci riesce come Bianchi trovando l'opposizione di Mutavgic. Poi Breda spedisce da pochi passi sul fondo. Il primo tempo finisce 2 a 0 per l'Udinese. Nella ripresa Davi Capuzzo va da Goffi che arma il suo mancino e centra in pieno. La traversa anche sfortunata la squadra di Mauro Coltrini. Anche se sul finale è l'Udinese ad andare più vicina al terzo gol. Inserimento di Mardero che non riesce a sfondare. Alla fine Manenti regala il pallone a Mosca che non ne approfitta. Quindi si rimane 2 a 0. Sarà l'ultimo squillo del match perché il direttore di gara mette il fischietto in bocca e dice che non c'è più tempo per altre emozioni. L'Udinese si impone sul campo della Feral Pissalò vincendo 2 a 0 grazie ai gol di Vinciati e Dalvi.